La Corte Costituzionale con la sentenza 261 ha reso illegittimo l'accorpamento delle Camere di Commercio. Sì, per un viso procedurale di non aver ascoltato le regioni, la Corte Costituzionale si è pronunciata alla sentenza di qualche giorno fa, di fatto rendendo illegittimo l'accorpamento delle Camere di Commercio. Teramo e Laguerre c'è stato l'accorpamento volontario, dove tempo fa tornammo sul tema, ritenendolo una procedura quando meno inconsueta, rilevato che il decreto calenda di agosto 2016 diceva chiaramente che la sede principale doveva avere luogo nella provincia dove c'erano più imprese e non poteva essere che Teramo, dove sono più imprese. Questa volontà, questa attività volontaria iniziata un anno fa, di fatto ha portato a questo accorpamento, oggi nello specifico la Corte Costituzionale si è pronunciata annullando tutta la procedura nella sostanza, anche se quella tra Teramo e Laguerre è di natura volontaria. Questa è la continua espogliazione che il territorio sta subendo oramai da anni, noi stiamo denunciando questa cosa oramai da diverso tempo come apiteramo, pur non stando all'interno della Camera di Commercio per scelta volontaria, e chiediamo, abbiamo chiesto attraverso questa nota di oggigiorno, al segretario generale della Camera di Commercio affinché, come soggetto legittimato, entri nel merito e si cerchi di recuperare quell'errore madornale che si è commesso circa un anno fa.